buongiorno a tutti allora terzo video di sci finalmente perché ero in arretrato comunque terzo video che riguarda sempre le gare della fine di novembre dell'anno scorso oramai un mese fa un mese abbondante fa siamo alla discesa libera femminile di lec louise in canada del 30 novembre 2018 nella quale la prima a scendere fu michelle gisin la svizzera finì la gara con il tempo di 1 48 e 28 vediamo se è un tempo buono per il primo posto o qualcun'altra le passerà davanti sapete benissimo che discesa libera e super g non hanno le due masche gara secca scendi cerchi di fare il meglio che puoi e poi tocca a tutte le altre e devi sperare di aver fatto il tempo migliore comunque la sibenofer l'è nettamente dietro naturalmente adesso per non lasciarvi lesionarvi i testi vi informerò solo in caso di sciatrice che passerà al comando e poi naturalmente vi darò la classifica ogni dieci sciatrice come più o meno sono messe comunque dopo le prime cinque discese la guinzi mantiene il primo posto bella la discesa del con il pettorale 8 invece di nadia fanchini ma purtroppo dopo il terzo intermedio esce esce male ahimè quindi dopo le prime dieci la classifica è la seguente prima la ghisi in secondo la via veniere terza la beretù quarta la stuic quinta la utter sesta la sutter settima la sibenofer che era partita appunto col pettorale numero due ottava la ross nona la movinkel e ahimè la nadia fanchini è uscita stava facendo veramente una bella gara attenzione perché quando sembrava che per ghisin fosse possibile la vittoria la nicol smidhofer sua connazionale le passa davanti per solo 15 centesimi vediamo se qualcun'altra riuscirà a scalzare le due svizzere dal primi due posti con il pettorale 18 scende la nostra federica brignone ma è solo quindicesima con il pettorale 20 invece scende la vidol e finisce al terzo posto a mezzo secondo dalla smidhofer ci si aspettava l'esplode la tedesca ed è finalmente arrivato quindi la classifica dopo 20 sciatrici vede prima la smidhofer con 1.48 e 13 seconda la ghisina a 15 centesimi e terza la vidol a 50 centesimi quindi tra la ghisina e la vidol magari qualcuna tra il ventunesimo e il trentesimo di pettorale potrebbe anche spuntare la venire quarta venire però mi sa che è venire perché è straniera non è come la nostra mara venire però ci siamo capiti quinta la vairater sesta la stueck settima la schifrin che si inserisce a sua volta tra le prime dieci ottava la utter donna la vight che sarebbe l'anna fenninger ma è sposata vight quindi ormai si fa chiamare vight e decima la sutter quindi se ne sono inserite devo dire qualcuna delle ragazze che avevano il pettorale tra l'undicesimo e il ventesimo numero scendono le altre 30 ma l'unica che riesce a inserirsi con il pettorale 27 al settimo posto nella classifica è christina shayer sciatrice austriaca che sotto il secondo 96 centesimi riesce a entrare nelle 10 al settimo posto vediamo adesso la nicole de gran lago con il pettorale 28 ma e me finisce diciassettesima andiamo a vedere quali sono le prime dieci dopo appunto 30 sciatrici la classifica resta più o meno uguale la smidoffer è sempre prima la ghisine è sempre seconda la videl è sempre terza il podio è invariato quindi veniva i rater e stueck restano quarta quinta e sesta la shayer si inserisce rimanda all'ottavo posto sua maestà schifrin nona la hüther e decima anna beit che sarebbe anche la fendinger con il pettorale 31 entra nelle 10 un'altra svizzera si tratta di joanna heilen che con un secondo e 5 centesimi di ritardo ottiene un ottimo risultato che potrebbe regalarle un pettorale nelle 30 quindi andiamo a vedere la classifica finale che vede la smidoffer al primo posto la ghisina al secondo la videl al terzo la venier al quarto la vairater al quinto la stueck al sesto la shayer al settimo appunto la heilen che è riuscita a inserirsi in mezzo tra la shayer e la schifrin all'ottavo posto quindi la schifrin nona e la ulter decima e la simpatica anna fendinger si deve accontentare dell'undicesimo posto bene vi ho raccontato a grandi linee la la gara appunto della discesa libera di like louise la il louise esatto in canada del 30 novembre 2018 io vi saluto vi ringrazio per oggi non vi lesiono più i testi e ci vediamo ai prossimi video che farò appunto nella notte tra giovedì sera e venerdì cioè nella notte di giovedì venerdì quindi per venerdì avrete altri tre video riguarderanno naturalmente le bollettine e probabilmente altre due gare di sci perché cerco di recuperarle io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao